ciao ragazzi di ondance buongiorno a tutti sono brigida bossoni e vi presento il mio tips on dance di oggi. Allora faremo un esercizio per cominciare a scaldare bene l'articolazione della caviglia i piedi e allo stesso tempo cominceremo bene ad utilizzare l'ande ordele anche attraverso tutti i muscoli rotatori. Allora ci sediamo a terra utilizziamo l'elastico andiamo a coprire bene le dita dei piedi formeremo la prima posizione con i talloni uniti le gambe stese non importa 180 quanto possiamo ritorniamo in sesta e stendiamo i piedi in avanti lo facciamo quattro volte così e poi tre volte con la doppia stesa dei piedi poi togliamo l'elastico divarichiamo le gambe apriamo ande or ritorniamo in prima e di nuovo in sesta quattro volte così e quattro volte con i piedi stesi nel momento in cui apriamo ande or prima e ritorniamo in flex. Andiamo schiena dritta addominali bene risucchiati verso l'ombelico apro prima torno piedi prima, 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 doppio piede giro bene dall'anca lascio l'elastico schiena dritta divarico ande or chiudo dagli adduttori sesta apro ande or chiudo sesta ancora adesso con i piedi stesi divarico ande or piede steso flex ancora stendo bene stendo i piedi chiudo dagli adduttori ultimo potete rimettere la musica e ripetere l'esercizio ciao ragazzi al prossimo tips on dance ciao